Bene, oltre a aver rischiato di essere viaccapitata, oltre a aver sofferto anche la crioterapia, come lei ha detto quest'oggi, ecco, volevo chiederle, allora, grande mattatore, uomo da palcoscenico, ma chi è Paolo Bonolis, veramente? È un uomo stanco adesso che vogliono andare a dormire e che è felice che domani venga raggiunto dalla moglie. Un saluto a Telesalerno 1? Un saluto a Telesalerno, perbacco, la città di nascita di mia mamma, un saluto a tutti gli amici di Telesalerno, agli amici della costera amalfitana, ne ho parecchi, grazie a voi ragazzi, buonanotte, ciao! Come? Un saluto a Telesalerno 1?